Da Gragnano una preziosa iniziativa di solidarietà in favore dell'Africa, Giuseppe De Caro. Per l'intero mese di dicembre un panificio di Gragnano nel Napoletano ha venduto panettoni artigianali e messo da parte il ricavato. I fondi raccolti sono stati poi utilizzati per un'iniziativa di beneficenza, destinataria alla Onlus e Tiporto in Africa, che opera per realizzare impianti ed infrastrutture nei paesi in via di sviluppo. I soldi saranno destinati al completamento dei lavori in un orfanotrofio, con 300 posti letto e centro medico in Costa d'Avorio. Tutto quello che esce da questa iniziativa va per ultimare i lavori del nostro secondo grande orfanotrofio, Osi San Francesco d'Assisi in Costa d'Avorio, perché in Africa i bambini muoiono per mancanza di tutto, di quel farmaco che manca e che noi gettiamo, ma soprattutto muoiono per la mancanza molte volte di un amore che non va ad accarezzarli nelle condizioni in cui si trovano non per loro volere.